Salve gente, benvenuti al sedicesimo devlog di DinoSystem. Questo è un aggiornamento molto importante perché segna una svolta nel modo in cui il giocatore controlla il personaggio. Se prima infatti il personaggio veniva controllato unicamente dai movimenti del mouse, e quindi si era costretti, anche quando per esempio si draggavano dei pannelli dell'interfaccia, a vedere il personaggio girarsi verso il cursore del mouse. Adesso invece il movimento del personaggio, quindi anche il modo in cui gira, è gestito dai pulsanti, proprio come in tutti gli altri giochi, quindi da ASDW. Mentre il mouse è libero di interagire con gli oggetti, con l'ambiente. Questo però non significa che la modalità di controllo del personaggio col mouse sia stata rimosso del tutto, perché come vedremo dopo è rimasta nel caso in cui si voglia utilizzare la aim mode, modalità mira, per attaccare a distanza. Poi un'altra cosa importante in questo aggiornamento, fondamentale, è il nuovo sistema di equipaggiamento degli oggetti. Infatti se prima per equipaggiare un oggetto, magari un vestito, un'arma, una faretra, bisognava premere un pulsante, oppure cliccare sull'oggetto e fare equipaggio, metti, adesso invece bisogna semplicemente draggarlo, cioè trascinarlo col mouse, nello slot del personaggio su cui volete metterlo. Per esempio, se volete vestirvi con della pelle di un animale, la trascinate sul corpo del personaggio, oppure se volete equipaggiare un'ascia, la trascinate sulla mano sinistra, oppure se volete equipaggiare una faretra, la trascinate dietro. E gli slot vi diranno esattamente che cos'è l'oggetto, dove andrà a essere posizionato, se è possibile equipaggiarlo, se lo slot è già occupato, oppure quell'oggetto non è adatto a essere equipaggiato in quel particolare slot. E questo lo vedremo fra poco. Oltre a questi cambiamenti fondamentali, queste aggiunte rivoluzionarie, abbiamo un sacco, come è mio solito, di altri miglioramenti, ottimizzazioni, fix, ribilanciamenti, alcuni anche molto importanti, che vedremo nella serie di questo devlog, che presumo sarà abbastanza lungo, soprattutto rispetto a quelli precedenti, agli ultimi. Va bene, iniziamo con i piccoli miglioramenti grafici. Non voglio iniziare con le cose più importanti, ma voglio procedere secondo l'ordine del changelog, altrimenti mi perdo le cose, come faccio sempre. Allora, piccoli miglioramenti grafici, non c'è nulla di rivoluzionario nei miglioramenti grafici, ci sono piccole chicche grafiche, che vanno a aggiungere particolarità al gioco. Io ora ve le mostro, per quanto mi sia possibile. Allora, primo piccolo miglioramento grafico è l'aggiunta di una specie di finta occlusione ambientale alla sprite del personaggio. Infatti adesso intorno al personaggio, oltre all'ombra, che è la privazione dell'illuminazione diretta, data appunto dalla sprite del personaggio, c'è questa specie di oscurità intorno alla sprite, data appunto dall'occlusione ambientale, che non è ovviamente l'occlusione ambientale che vedete nei giochi 3D, ma è una semplice sprite trasparente che viene messa sotto quella del personaggio. Poi un altro miglioramento è la sprite degli escrementi degli animali, come vedete adesso è molto più credibile, è verosimile, dove ne posso trovare una più grande? Ecco qui. Vedete? Molto più verosimile. Un altro miglioramento ancora è la nebbia. Prima la nebbia era una cappa trasparente senza forma, adesso invece ci sono delle zone più dense ed altre meno dense, quindi è più credibile rispetto a prima. Un'altra cosa che ho fatto è miglioramenti delle animazioni del personaggio. Vedete quando corre il personaggio? Adesso si muove tutto il corpo, un po' come se stesse appunto dondolando, come facciamo con le spalle quando corriamo, con tutto il corpo in effetti. E questo effetto ovviamente aumenta di intensità quando aumentiamo la velocità. E si riduce con la riduzione della velocità. Un'altra cosa che ho fatto, e questo è anche divertente, è che ho fixato un piccolo bug che faceva glitchare le gambe del personaggio una volta che si premeva ripetutamente W. Vedete? Adesso posso premere W e le gambe non si glitchano. Invece prima cosa faceva? Ecco. Questa è una versione precedente, prima di questo aggiornamento. Guardate cosa accade. Se premiamo ripetutamente W. Ecco qui. Nelle gambe, tutto il corpo del personaggio impazzisce. E questo è stato fissato. Per quanto riguarda le animazioni, ho fatto un'altra piccola modifica al modo in cui la testa del personaggio gira. E al motivo per cui gira. Come potete vedere adesso, il nostro personaggio è particolarmente interessato a questo triceratopo che sta vagando a sud, no? Questo perché, in questo preciso momento, il personaggio non sta facendo nulla di importante. Quindi che cosa gli ho detto di fare? Gli ho dato istruzioni di interessarsi, tra virgolette, a ciò che gli accade intorno nel momento in cui si annoia. Cioè nel momento in cui non ha un'azione che sta praticando. E questo può valere per gli animali oppure per eventi. Per esempio se accade un incendio, cose del genere. Se invece, per esempio, rivolgiamo la nostra attenzione a un oggetto, perché lo stiamo trasportando, vedete che la testa fissa quell'oggetto. Oppure se stiamo... se prendiamo una pietra qui e la usiamo per lavorare quest'altra pietra, vedete che la testa non segue più gli animali, ma è interessata, tra virgolette, al lavoro che stai seguendo. Poi per quanto riguarda l'interfaccia, ho cambiato il modo in cui alcuni valori numerici sono mostrati nell'interfaccia, appunto, dal gioco. Per esempio la forza, invece di essere mostrata da 0 a 100, è mostrata da 0 a 150. Quindi il valore medio è 75, e la range di valori basso è 0 a 50, medio è 50 a 100, e alto è 150. Questo per rafforzare l'idea che 100% non è il valore massimo, ma è un valore medio, medio alto. Un'altra cosa che ho fatto, finalmente abbiamo elaborato un'icona che rappresenta il nostro studio di sviluppo, la nostra software house, per così dire. ed eccola qui, Capri Byte Studios. Capri perché Capri è l'isola in cui vivo, e la lucertola perché, ovviamente, come alcuni di voi sapranno, la lucertola azzurra vive unicamente nei faraglioni di Capri, sui faraglioni di Capri, quindi è una caratteristica abbastanza originale dell'isola. Poi, altre piccole miglioramenti all'interfaccia. Ah, poi ho aggiunto la prima vera opzione grafica del gioco, che non ha ancora un suo pannello, una sua interfaccia, ma esiste già questa opzione, ed è la capacità, la possibilità di cambiare l'effetto Sharpen dello schermo. Cioè l'effetto di appannamento, o di, appunto, come si dice, l'opposto dell'appannamento, cioè quando le cose sono più definite. Ecco, adesso questo si può modificare nel gioco. Ve lo faccio vedere. Si usano due pulsanti, punto e virgola, per adesso, ma in futuro ci sarà ovviamente l'interfaccia che includerà anche tutte le altre opzioni grafiche. Ecco, adesso l'aumento a 20, 50%, vedete come è più, tutto più crispo, come si dice, in italiano, in crisp, come si dice, vabbè, l'aumento al massimo 100, è improponibile ovviamente. Ora la riduco, questo è il valore normale, questo è un valore meno 50, e questo è il valore meno 100, che è anche improponibile. Ecco, adesso veniamo a quello che ho spiegato prima. Le modifiche nei controlli del personaggio è l'aggiunta dell'equip mode, modalità equipaggiamento. Allora, torniamo alla sharp normale, perché altrimenti fa schifo. Ok, spavoliamo il personaggio. Allora, praticamente, adesso non si gira più col mouse. Cioè, prima che succedeva, che tu dovevi muovere il mouse per girare, no? Dovevi fare così. E il personaggio girava dove era puntato il cursore del mouse. Adesso invece sono necessari i pulsanti A e D per girare. Mentre il mouse è libero di interagire con gli oggetti, mangiare, combattere, eccetera, eccetera. Questo non significa però che la modalità precedente sia stata eliminata. Infatti, è ancora possibile accedere al vecchio modo di movimento, vecchio le macchie meccaniche di movimento col pulsante destro del mouse ovvero quando si va in aim mode modalità mira. Questo perché questa modalità permette di mirare molto più facilmente. Adesso lo mostro anche. Spamiamo un arco con delle frecce. Qui vi faccio un piccolo spoiler di quello che vi spiego fra poco. Ecco qua. Adesso posso mirare col mouse perché sto premendo il pulsante destro del mouse perché sto in aim mode. perché mirare con i tasti A e D non è facile. Questa modalità come ho spiegato nello scorso devlog permette anche di ampliare il campo visivo in modo da mirare più da lontano oppure semplicemente da scoutare cioè vedere più da lontano. Ora mi sono suicidato perché questo mi viene a uccidere. Poi la modalità equipaggiamento. Questa è un'altra aggiunta importantissima perché finalmente ci libera dall'onta di dover premere dei pulsanti per equipaggiare degli oggetti. Adesso è tutto si fa tutto col mouse cioè dobbiamo soltanto premere un pulsante E che ci attiva l'equip mode e adesso ci basta trascinare l'oggetto che vogliamo equipaggiare col mouse nello slot adibito e il bello è che col cursore sullo slot ci dice tutte le informazioni ci dà tutte le informazioni necessarie per capire che cosa fa quello slot e se l'oggetto può essere posizionato in quello slot può essere equipaggiato in quello slot per esempio questo è un arco l'ho allontanato come un idiota ecco questo è un arco e lo voglio mettere qui mi dice wield bow cioè impugna arco oppure lo voglio mettere qui carry bow cioè trasporta con l'altra mano l'arco oppure qui shelt bow cioè metti nella fareta questo è un termine che si addice più a una spada però avete capito no? lo metti qui e lo conservi così puoi farne uso appena vuoi con Q la stessa cosa si fa per droppare cioè metti il mouse qui clicchi drop bow e lo droppa e questo vale per qualsiasi cosa per esempio la faretra le frecce all'interno della faretra possiamo mettere direttamente vedete nella faretra i vestiti le armi gli oggetti da trasportare con l'altra mano e il bello è che se per esempio posiamo il quiver qui che sarebbe la faretra la svuotiamo e poi usiamo la modalità equipaggiamento sulla faretra prendendo una freccia possiamo mettere la freccia nella faretra semplicemente trascinandola sulla faretra e poi metterci la faretra addosso oppure se abbiamo un arco equipaggiato e prendiamo una freccia da terra possiamo direttamente equipaggiarla nell'arco per poterlo usare subito se invece per esempio proviamo a equipaggiare un'arma al posto del vestito ci dice can't wear this oppure se proviamo a equipaggiare una faretra al posto dell'arma can't wear this non possiamo equipaggiarla quindi il gioco ci dice esattamente che cosa dobbiamo fare se possiamo fare quello che stiamo tentando di fare quindi non c'è il rischio di impazzire o di sbagliare ora oltre alle meccaniche di equipaggiamento al sistema di equipaggiamento che ho mostrato ho anche cambiato tutte le azioni tutto il modo il modo in cui il personaggio interagisce con tutti gli oggetti cioè se prima soltanto alcuni oggetti alcune cose potevano essere effettuate con una finestra a tendina che ti mostrava delle opzioni adesso qualsiasi azione richiede la finestra a tendina per esempio bere vedete si apre la finestra in questo caso c'è solo un'opzione drink oppure boulder fine stone cerca una pietra oppure se la troviamo la pietra ecco l'abbiamo trovata sharpen o destroy possiamo anche distruggerla perché se no le pietre essendo indistruttibili in natura nel gioco è conveniente che il giocatore abbia un'opzione per distruggerla a mano altrimenti si restano come dire nell'ambiente e questo ora vale per tutto per ogni cosa quindi se vogliamo cercare una fern o una foglia per esempio oppure un frutto dagli alberi qualsiasi cosa e oltre a questo c'è anche un nuovo menu a tendina che esce nel momento in cui clicchiamo col destro sul nostro personaggio questo menu per adesso ha solo due opzioni più uno quindi tre ovvero dormi e craft ciò significa che dormire e craftare non si fanno più con i pulsanti non si triggerano più con i pulsanti dalla tastiera ovvero z e c ma direttamente col mouse su questo menu qui oppure se sta piovendo su questo menu appare drink rain e se c'è neve drink snow che è possibile bere solo se la temperatura intorno a noi è abbastanza alta da poter sciogliere la neve e questo sistema l'ho implementato perché altrimenti avrei dovuto adibire un pulsante solo per bere altrimenti quel pulsante sarebbe andato ad avere dei conflitti con altre azioni e quindi avrei dovuto usare un pulsante apposta solo per bere dalla pioggia e non era il caso quindi ho aggiunto questa opzione qui nel menu e in ultimo su questo dico anche che si è vero che per adesso c'è solo un'opzione per ogni menu per esempio come ho mostrato prima bere c'è solo drink cercare pietre c'è solo fine stone eccetera però uno può dire che questo sistema è inutile se c'è solo un'opzione basta che tu premi il pulsante o che clicchi direttamente sulla roccia e ti fa direttamente l'azione senza che tu fai questo passaggio in più invece questo passaggio è necessario perché queste azioni che vedete adesso sono soltanto le azioni iniziali in futuro nei prossimi aggiornamenti ci saranno altre azioni da poter eseguire per esempio sull'acqua si potrà pescare si potrà lavarsi oppure sulla pietra si potrà cercare altre cose si potrà minare per trovare il ferro e altre cose quindi è importante che ci sia una base una struttura di base che mi permetterà di ampliare le opzioni nel gioco per poter espandere i contenuti bene si può dire che in 5 minuti ho spiegato le cose più rivoluzionari di questo aggiornamento ma ovviamente non è tutto anzi è solo una piccola parte andando avanti passiamo alla modalità survival e i cambiamenti che sono qui presenti non sono molto rilevanti come cioè dal punto di vista del devlog è difficile mostrarli per cui non perderò molto tempo c'è solo una cosa che vorrei mostrare ed è il modo in cui ho cambiato le meccaniche che regolano il rilascio delle calorie dal grasso dai muscoli e dalle proteine nel momento in cui si va in scarse calorie in starving modalità morte di fame praticamente e per mostrare questo devo accedere alla console allora vi starete chiedendo che cosa sono questi valori che vedete sotto sono una frazione delle variabili che regolano il personaggio e in particolare quelle che regolano le quantità di calorie nel sangue la quantità di calorie assorbite dall'organismo dopo un pasto oppure in base al rilascio dal grasso eccetera e poi ovviamente la quantità di proteine di muscoli e di grasso solo i valori finali non i valori che regolano i processi che le fanno accumulare eccetera quindi solo per cambiarle oh allora che cosa ho fatto prima spiego un momento come funzionava già prima e come funziona anche adesso praticamente che cosa succede lo vedete questa barra verde questa barra verde rappresenta il nutrimento ovvero le calorie che in questo caso sono 1600 su 2000 il massimo che possiamo assorbire prima che cosa accadeva e anche adesso ovviamente quando questa barra raggiungeva la metà e scendeva sotto il 50% il corpo iniziava a trasformare prima i grassi e poi i muscoli i grassi corporei poi i muscoli corporei in calorie quindi riduceva la quantità riduce la quantità di massa grassa e aumenta quella di calorie nel sangue e quanto più è basso la quantità di calorie tanto ha più calorie trasforma da grasso a appunto calorie a energia e questo anche ovviamente in base al metabolismo alla velocità del metabolismo questo valore prima era istantaneo cioè ora faccio un esempio riduciamo la quantità di nutrimento che ora è 80% la riduciamo a 40% vedete ora è apparso un più sulla destra significa che stiamo assorbendo una piccola quantità di calorie però non abbiamo mangiato nulla com'è possibile che stiamo assorbendo alcune delle calorie perché il corpo sta iniziando a bruciare questo valore body fat che sarebbe questo nel gioco sta iniziando a bruciare questi e trasformarli giusto una piccola parte in calorie perché questo valore è così basso adesso quasi non fa quasi differenza semplicemente perché prima cosa siamo poco sotto al 50% non siamo a 10% siamo a 40% e poi perché abbiamo relativamente poco grasso ovvero 22% di grasso su 100% che cosa succede invece se per esempio invece di lasciare le calorie a 40% le riduciamo al 20% succede che il corpo inizia ad assorbire più calorie dal grasso comincia a convertire più grasso in calorie ecco infatti vedete invece di 5-6 ora abbiamo 30 kcal che stiamo assorbendo e questo valore adesso inizierà ad aumentare un po' finché non raggiunge un equilibrio tra quantità assorbita e quantità consumata in questo momento dal metabolismo del personaggio che vi ricordo essere relativa essere dipendente dalle nostre attività dalle nostre condizioni per esempio se stiamo correndo stiamo facendo attività fisica consumiamo ovviamente molte più calorie anche molti più liquidi però in questo caso siamo fermi quindi questo valore così basso è destinato ad aumentare perché noi stiamo riposando e abbiamo ancora delle riserve di grasso che in questo momento sono convertite gradualmente in energia come ho detto la differenza in questo aggiornamento è semplicemente che adesso queste calorie sono convertite gradualmente e sono assorbite gradualmente non è istantaneo l'aumento e quindi possiamo anche vedere quante ne stiamo assorbendo a patto che non abbiamo mangiato altrimenti questo valore si mischia a quell'altro quindi sembra che sono calorie che sono assorbite dal cibo invece non lo sono ma giusto così per cazzimma aumentiamo al massimo il grasso del personaggio 100 un valore che in gioco non potremo mai raggiungere il massimo è impossibile virtualmente e vediamo cosa succede prima cosa la sprite del personaggio diventa obesa ecco diventato obeso ah una cosa che devo fare quando divento obeso per tradizione e mettegli il vestito ecco così è capitantuta ecco adesso vediamo che sta assorbendo 300 kilocalorie e questo numero è destinato ad aumentare in modo esponenziale finché non raggiunge subito un valore altissimo 380 poi diventerà 500 fra poco ecco 450 eccetera mettiamo sempre per cazzimma nutrition a 0 ora siamo a 0 nutrition 0 calorie e il nostro corpo ne sta assorbendo 700 e questo valore aumenterà come ho detto prima e noi siamo praticamente protetti dalla morte di fame siamo siamo al tranquilli che non moriamo di fame perché abbiamo così tante riserve di grasso che siamo a posto però però c'è un ma il corpo non attinge soltanto dalle riserve di grasso ma attinge anche dalle riserve di muscoli e in questo caso non lo fa o lo fa in misura molto molto bassa perché abbiamo un sacco di riserve di grasso da cui attingere ma se riduciamo al minimo il grasso 0 mettiamo 0 mettiamo 0 se no questo valore qui altrimenti questo più comunque è alto lo resettiamo ecco che cosa succede adesso voi direte non c'è più non ci sono più non c'è più grasso quindi siamo morti no continuiamo ad assorbire calorie anche se pochissime perché il corpo ora sta trasformando i muscoli in energia sta bruciando i muscoli e ottenendo un poco di calorie da questi ultimi ovviamente la quantità è bassissima perché abbiamo pochi muscoli e abbiamo anche già un po' di calorie che abbiamo assorbito prima ma se riduciamo al minimo le calorie se ben nutrition qua vediamo che questo valore è un po' più alto vedi 52 47 eccetera e questo valore come il grasso dipende anche dalla quantità di muscoli più muscoli abbiamo e più il nostro corpo ne brucerà per produrre energia nel momento in cui ne avremo bisogno poi terza cosa il corpo non brucia soltanto i muscoli per produrre energia nel momento in cui ne ha bisogno ma brucia anche le proteine stesse cioè in questo momento abbiamo 3.1 grammi di proteine pochissime nel sangue però abbiamo ancora meno quantità di calorie quindi il nostro corpo non sta bruciando solo i muscoli per produrre queste calorie che vediamo qua in assorbimento ma sta bruciando anche le stesse proteine che abbiamo nel sangue che si sono ridotte molto velocemente a tutti gli effetti la nostra dieta potrebbe anche essere interamente fatta da proteine e il corpo si adatta si adatterebbe a bruciare soltanto quelle col tempo il metabolismo si velocizzerebbe e il corpo inizierebbe a bruciare soltanto le proteine per produrre le calorie necessarie e assimilarle e questo è il cambiamento in questa versione come ho detto prima è solo un fatto di gradualità nel modus operandi e anche nei valori percorreri bilanciato i valori adesso è molto più visibile l'effetto però queste meccaniche erano già presenti negli aggiornamenti precedenti in ogni caso ho colto l'occasione in questa istanza per spiegarle un po' più a fondo allora che altro c'è da dire tra le tante altre cose ho ridotto la velocità con cui gli oggetti utilizzati perdono di durabilità quindi si degradano con l'uso questo perché si degradavano in modo troppo veloce prima poi alcune azioni adesso possono nuovamente fallire per esempio il butchering cioè lo squigliare un animale oppure lo staccagli dei tendini sono azioni che possono fallire mentre il tagliarne la carne no perché se fai l'azione di tagliare la carne a una carcassa ottieni sempre un pezzo di carne alla fine dell'azione mentre se fai l'azione di scuoiarla potresti fallire perché per esempio potresti rompere rovinare la pelle che hai ottenuto e quindi l'azione potrebbe fallire e ovviamente la probabilità di fallimento dipende dalla skill di butchering del personaggio poi nella god mode ho aggiunto la possibilità di triggerare un fulmine anche se non sia in cheat mode cioè modalità codici trucchi con spazio quindi con spazio adesso chiunque nella god mode può fare un fulmine e distruggere tutto poi adesso gli animali hanno un impatto maggiore sulla vegetazione perché quando si nutrono di una pianta consumano più energia di questa pianta quindi una quantità un numero una popolazione maggiore di animali arbivori ha un impatto maggiore sull'ambiente di prima prima era quasi invisibile il loro impatto era quasi inesistente perché la quantità di energia che consumavano dalle piante era bassissima poi ho fatto dei cambiamenti alle stagioni alla stagione di accoppiamento degli animali che ora è più lunga che altro c'è da dire intelligenza artificiale degli animali allora ho fatto un sacco di miglioramenti ancora una volta al codice che regola il modo in cui gli animali evitano gli ostacoli quindi quello che ho aggiunto due devlog fa l'ho migliorato ulteriormente questo soprattutto per fixare un problema che alcuni animali tendevano a tremare per un certo senso vicino a un ostacolo perché sbattevano continuamente su questo ostacolo girandosi appena lo evitavano e questo è stato fixato poi ho fatto alcuni miglioramenti alcuni cambiamenti all'intelligenza artificiale delle femmine e dei cuccioli dei triceratopi ora cercheranno la presenza dei maschi e degli adulti più spesso questo per tenere il gruppo per tenere la mandria più unita rispetto a come era prima perché prima tendevano a disperdersi troppo nella mappa ora passiamo alla vegetazione qui ho aggiunto delle cose molto importanti ho aggiunto un sistema prima cosa che impedisce alle conifere cioè agli alberi in questo caso di raggiungere una popolazione troppo elevata ora qui c'è da fare una premessa una parentesi c'è da aprire una parentesi importante io ho detto e continuo a ripetere che uno dei pilastri del gioco che sto sviluppando è quello di simulare un ecosistema senza aggiungere meccaniche artificiose che vanno a interferire con le meccaniche ambientali le leggi biologiche pseudo biologiche pseudo fisiche che regolano l'ecosistema e l'ambiente questo l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo però c'è una cosa che non posso permettere ed è che in alcuni casi la popolazione di alcune piante o di alcuni animali può crescere a tal punto da superare un certo limite per cui il computer non riesce più a gestirle e impazzisce va scatti crasha questo è molto raro che capiti ma può succedere e nel momento in cui succede sono problemi quindi ho implementato un sistema molto semplice totalmente invisibile che fa in modo che appena si supera un certo threshold di un numero di una specie di una pianta di individui di esemplari il gioco inizia a ridurre drasticamente la quantità di semi che queste piante producono e questo ovviamente è graduale cioè quante più ce ne sono oltre questo threshold tanti meno ne producono non è che da un momento all'altro non producono più semi ma è molto graduale quindi è totalmente impossibile notarlo queste meccaniche questo meccanismo però è necessario e questa è l'unica cosa artificiale che c'è nel gioco perché ovviamente non si può fare altrimenti perché i computer a nostra disposizione non sono infinitamente potenti da regolare come ho detto già più volte un'altra possibilità sarebbe quella di ridurre la dimensione della mappa in modo tale che è impossibile che una specie occupi così tanto spazio da produrre un numero di individui altissimo però questo ovviamente per ovvi motivi non è possibile farlo perché la mappa deve essere abbastanza grande da dare un'idea di esplorazione da creare esplorazione poi ho migliorato molto il modo in cui i semi interagiscono con l'ambiente ho fatto in modo che i semi le condizioni di nascita dei semi siano più favorevoli alla pianta che nascerà per esempio se due semi sono uno sull'altro e quindi potenzialmente possono produrre due piante nello stesso punto si sposteranno non con le gambe come degli animali ma in modo naturale diciamo in modo fluido si sposteranno a una certa distanza prima di nascere in questo modo le piante che nasceranno non saranno sullo stesso identico punto e quindi uno delle due non morirà immediatamente per permettere all'altra di nascere ma saranno due piante a nascere e un'altra cosa che ho fatto è che se i semi escono fuori dalla mappa per via del vento che li trasporta si fermano e ritornano gradualmente dentro un po' come se la mappa fosse recintata da una specie di muro di montagne una specie di frontiera di monti questo perché il vento causava delle vere e proprie estinzioni di piante perché permetteva ai semi di uscire dalla mappa e quando c'era molto vento c'erano delle stagioni particolarmente ventose le piante non producevano più non lasciavano generazioni successive quindi questa meccanica che ho aggiunto rafforza il concetto di ecosistema chiuso invece che ecosistema aperto cioè che disperde nell'ambiente fuori da sé i suoi elementi oppure introduce dall'esterno degli elementi in questo caso l'ecosistema è del tutto chiuso non perde e non acquista elementi dall'esterno poi un sacco di altri miglioramenti alle piante piccole cose agli oggetti ora stagioni e meteo adesso la pioggia impiega più tempo a raggiungere la massima forza e può raggiungere un livello inferiore prima un livello minimo di pioggia di intensità della pioggia inferiore a prima ora non so come mostrarlo perché l'unico modo per trigare la pioggia è quello di farlo in modo immediato però no posso aumentare la velocità della simulazione e aspettare che venga a piovere ora vedete che la pioggia è al 61% prima no anche adesso in questo caso però il minimo che la pioggia poteva raggiungere era 50% cioè la pioggia è a tre fasi decollo volo e atterraggio per così dire nel decollo il numero di gocce aumenta ogni tot di tick del gioco nel volo resta stabile e piove normalmente e nell'atterraggio ogni tot di tick di tempo le piogge vengono una goccia alla volta viene distrutta e la pioggia svanisce gradualmente e che succedeva che nella fase iniziale il decollo la pioggia non raggiungeva mai un threshold inferiore a questo cioè 50% cioè al minimo raggiungeva questo quindi un valore tra qua e qua tra 50 e 100 adesso invece il range di valori che la pioggia nella fase volo può raggiungere è più ampio cioè da 25% a 100% ciò significa che finalmente la pioggia può raggiungere un livello minimo cioè la pioggia può fermarsi a 25% e piovere così sghizzinare per così dire e questo migliora molto l'atmosfera oltre a questo ovviamente la pioggia adesso può anche ci impiega anche più tempo a raggiungere un certo livello quindi non è che da un momento all'altro raggiunge livelli alti e si forma un'acquazione che neanche ce ne accorgiamo no? bene un'altra cosa è questa aspettiamo che venga il giorno perché non si vede nulla ok riduciamo la temperatura al minimo cioè al minimo un livello bassissimo vedete che l'ambiente si è istantaneamente ghiacciato non innevato ma ghiacciato quello che vedete infatti è ghiaccio non è neve ora questo questo cambiamento è avvenuto in maniera istantanea perché io manualmente ho settato la temperatura a meno 13 gradi in modo istantaneo ma naturalmente durante il corso della simulazione vedrete che il ghiaccio si formerà in modo graduale così come graduale è la diminuzione di temperatura di temperatura ecco questo è il nuovo effetto ghiaccio come vedete che è molto più bello di quello precedente e questo non sostituisce la neve che si forma comunque nel momento in cui facciamo nevicare aspettiamo un po' di tempo ecco qui si sta formando la neve vedete e questo pure questo possiamo annoverarlo tra i miglioramenti grafici oltre che di meccaniche poi tra gli altri tra le altre migliorie fatte al comparto meteo e stagioni abbiamo un aumento della lunghezza dell'inverno il quale è anche più severo come temperature quindi l'inverno sarà molto più rigido adesso e durerà il doppio poi un cambiamento della delle possibilità di piogge durante le stagioni adesso la pioggia durante le stagioni è più è meno come dire le differenze la differenza tra le possibilità di pioggia durante le stagioni sono meno visibili sono meno drastiche per esempio tra estate e inverno non c'è improvvisamente una differenza abissale tra le due possibilità di pioggia ma è più graduale ovviamente c'è ancora la possibilità che durante l'estate ci sia un periodo di drought cioè di siccità in cui non piove o piove pochissimo poi ho fatto delle importanti modifiche a due aspetti fondamentali ovvero la fusione di fuoco e acqua questo lo mostro adesso adesso che succede se mettiamo due pond due paludi due laghi uno vicino all'altro e aumentiamo il tempo vediamo che si fonderanno in un unico lago più grande ovvero il più grande assorbirà il più piccolo questo prima non accadeva la stessa cosa vale con il fuoco spaviamo un altro qui vedete che si formerà un fuoco sempre più grande non vari fuochi non vari fuochi uno vicino all'altro ma un fuoco sempre più grande invece se questo lo faccio qui riesce ad attecchire e a vivere e a vivere di vita propria invece se lo faccio qui si limita ad accrescere quello che esiste già e questa è una piccola cosa che era necessario fare poi ho fatto piccoli miglioramenti alle meccaniche del terreno ovviamente altre le meccaniche dell'acqua della formazione dei laghi delle paludi che ora è molto più fluida e molto più coerente e ho fatto un sacco di ottimizzazioni ottimizzazioni al codice quasi in tutte le aree del codice e ovviamente come sempre un sacco di fix e si può dire che con questo è tutto al prossimo video